Ciao a tutti, siamo qui su AMF Channel. Oggi torna Il Grande Fratello con la sua seconda puntata settimanale in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. È il 14 febbraio, e mentre festeggiamo San Valentino, vediamo cosa è successo nell'ultima puntata e cosa ci aspetta stasera. Oltre a farvi conoscere tutti i sondaggi, vi diremo cosa potrebbe succedere proprio stasera. Lo scorso lunedì abbiamo assistito all'uscita di Vittorio Menozzi dalla casa, e se vi siete persi qualche dettaglio, potete dare un'occhiata ai video precedenti. Tra i concorrenti rimasti, abbiamo Alessio, Anita, Beatrice, Federico, Giuseppe, Grecia, Greta, Letizia, Marco, Massimiliano, Paolo, Perla, Rosi, Sergio, Simona e Stefano. Ora, passiamo agli appuntamenti. La puntata di stasera inizia alle 21.20 con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Stafelli in studio insieme ai concorrenti già eliminati. Il palinsesto rimane lo stesso con i collegamenti giornalieri su Italia 1 e le repliche serali sulla 5. Potete seguire tutto anche su Mediaset Extra e su Mediaset Infinity. Durante l'ultima puntata abbiamo visto l'addio di Fiordaliso, che ha lasciato il reality, mentre i sospetti si concentrano su Marco Maddaloni, che sembra voglia seguire le sue orme. Ma oggi è anche tempo di sondaggi e nomination. Anche se Beatrice, Stefano e Marco sono stati nominati lunedì, non corrono rischi stasera, visto che il prossimo televoto è fissato per lunedì 19 febbraio. Ora, mentre ci prepariamo per una serata emozionante, diamo un'occhiata ai risultati del sondaggio, Beatrice Luzzi al 51.33%, Marco Maddaloni al 28.53% e Stefano Miele al 20.13%. Preparatevi quindi per una puntata ricca di sorprese e emozioni, e non dimenticate di votare per il vostro concorrente preferito. Cosa ne pensate voi, amici di AMF Channel? Chi vorreste salvare? Lasciate un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdere ulteriori aggiornamenti, grazie per la visione.